Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Sarà una vera e propria gara di regolarità la tappa valtellinese del campionato italiano Energie Alternative Green Endurance organizzato da AC Italia ed in programma per il 24 e il 25 ottobre prossimi a Sondrio. Parliamo della prima edizione del Valtellina Eco Green, aperta ad automobili a biometano, plug-in ed elettriche lungo un percorso di ben 140 km che si snoderà tra il capoluogo e 30 comuni sparsi lungo la provincia. Le tappe valtellinesi a cronamento della gara saranno precedute dalle prime due disputate ammerate. La Coppa Valtellina seguirà lo stesso percorso dei campioni del campionato ma avrà appunto dei neofiti, delle famiglie che si sono avvicinate per la prima volta a questa gara di regolarità che ricordiamo non è un rally ma si svolgerà su strade normali, aperte, con macchine assicurate, macchine che usiamo tutti i giorni. Mission dell'evento è dimostrare quanto le energie rispettose dell'ambiente possano essere una valida alternativa ai veicoli endotermici. Il percorso, maggiormente incentrato lungo due strade, quella dei Vini che dal capoluogo si snoderà lungo Tresivio, ponte in Valtellina, Chiuro e giù fino a San Giacomo con ritorno passando da Piateda e Feedo e l'altra detta della Valle che da Sondrio si inoltrerà verso l'altro versante, quello diretto a Postalesio, Berbenno, Talamona con il ritorno passante da Colorina, Cedrasco, vedrà la partecipazione degli equipaggi impegnati in una competizione, come anticipato, di regolarità. Assieme alla prima Coppa Eco Green Valtellina, il premio Green Driver, in ricordo di Giovanni Trinca Colonel, presidente di ACI Sondrio, recentemente scomparso. Non è la classica gara dei rally che magari qualcuno è abituato a conoscere, ma è una gara di regolarità, ovvero una gara dove vince chi mantiene la media stabilita. La media stabilita del percorso è a 35 km orari, quindi avviene tutto su strade aperte al pubblico, assoluto rispetto del codice della strada, il suo fulcro sarà Piazza Carivaldi a Sondrio. Ed è proprio qui che durante la giornata di domenica 25 sarà possibile provare di persona queste automobili particolari, certo, ma verso le quali sempre più cresce l'attenzione degli automobilisti. Testimonial d'eccezione della manifestazione, Mario Stagni, pilota rally plurimedagliato, e attualmente quarto nella classifica mondiale del gruppo N, assieme al navigatore pilota Ennio Ferrari, gloria dell'universo rallyista degli anni 70 e 80. Con loro, alla guida di un altro equipaggio tutto al femminile, l'ex tenista Tatiana Garbin, numero 18 della classifica mondiale, capitano della nazionale italiana di Fed Cup. Un evento finalizzato dunque alla sensibilizzazione in un paese, il nostro, nel quale il traguardo, grazie alla conversione in legge del decreto semplificazioni, è quello di riuscire a portare a quota 60.000 il numero di stazioni per le ricariche elettriche dei veicoli rispetto alle 10.000 attualmente presenti lungo l'intero stivale. Questa è la direzione che dobbiamo assolutamente seguire per rispettare l'ambiente, che è banale dirlo, ma è sempre meglio ricordarlo, che non è nostro, ma un ambiente che dobbiamo tutelare perché poi dovremo lasciare in eredità qualcuno. Quindi questo evento va in quella direzione perché oltre a promuovere il territorio, che è sicuramente importante, rispetta l'ambiente e quindi manda un messaggio molto chiaro che va in quella direzione.